Ora siamo giunti direi che anche alla fine di questo secondo giorno di villaggio della Vifana, del villaggio della Vifana, qui c'è una discussione molto accetta tra il nostro Carlo, la Vifana e l'Ovizio, non mi considerano minimamente, i gemellini dell'arcamore della compagnie, noi incontriamo noi, noi domani saremo ancora presenti qui, a partito dalle 16 in avanti, con tutto il nuovo sottile, con gli altri, con gli amici che ci verranno a trovare qui al villaggio della Vifana di Vifana di Vifana, anche se stasera vi salutiamo vai vai Carlo, aspettate la mettete vicini, aspetta che qui c'è un saluto speciale sia da parte di Carlo che della Vifana, Carlo deve fare un annuncio per conto suo, Beppe fra tutti e auguro che bene a tutta la cristà di Montiniera e tutti i figli di lavoro di Vifana quindi ipotesca, quindi bisogna essere tutti buoni e fiori, ma buoni come testo di Quindi ricorda, buoni vecchi prossimi, soprattutto quelli che hanno bisogno di noi, allora di nuovo tanto bene a tutti, ciò che sarà. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Quindi vi salutiamo e vi aspettiamo, mi raccomando, domani siamo sempre qui dalle 4 alle 7 e mezzo e anche domenica. Io vi saluto e ciao a tutti.